Marco Spigli è il termine di Arconatese-Varesina 0-1, mister, seconda vittoria consecutiva, dimostrando anche di saper gestire la partita, voler vincere la partita soprattutto. Sì, gestire non è un verbo che mi piace tanto, perché poi chiaramente avendo questo tipo di atteggiamento qua, come dicevo ora anche ai ragazzi dentro lo sfogliatoio, alla fine ti abbassi un po'. Abbiamo concesso qualche situazione sporca, in realtà non grandissime occasioni, qualche situazione sporca in mischia che può qualche volta dirti bene come è oggi, qualche volta dirti male e magari prendi gol. Quindi preferisco la squadra che ho visto nei primi 20 minuti, poi ci succede che quando andiamo a un vantaggio tiriamo un po' il freno a mano e questa cosa qua insomma ci dobbiamo lavorare, però dall'altra parte devo dire grande cuore da parte dei ragazzi, grande voglia di soffrire, grande sacrificio anche di non prendere gol. Queste sono quelle partite che poi ti compattano il gruppo, infatti c'era una grande festa dentro lo sfogliatoio, però noi poi dobbiamo essere bravi anche a lavorare su altre cose che in questo momento stanno andando un po' meno, come quella di andare un po' in blackout nel momento in cui andiamo in vantaggio. Grande festa, forse qualche acciacco, visto che c'è l'impegno mercoledì, come stanno i tuoi ragazzi? No, ma sono botte, quindi ora tolto Giorgi che per andare a intercettare un cross gli si è girata un pochettino la caviglia, ma non credo niente di trascendentale, non so se da qui a mercoledì recupererà, però abbiamo siciliano, abbiamo le alternative, in questo momento credo nessuna squadra sia pronta per fare tre partite in una settimana, quindi una delle tre partite va sicuramente gestita, facendo giocare anche altri ragazzi che comunque si stanno allenando bene e stanno dimostrando di poterci stare in questo gruppo. Grazie.